Allora, voi mi vedete amici telespettatori stamattina con questi fogli in mano, li giro, li vedete anche nelle inquadrature, non trovo pace. E adesso vi dovrei leggere quest'anza, che dice Nella seconda metà del 2010 l'occupazione in Campania ha registrato l'incremento del 5,8% e il mercato del lavoro ha movimentato circa 700.000 rapporti di lavoro a fronte di uno stock di occupati di un milione e mezzo. Questi dati ARSAL, forniti dall'assessore Nappi, sono dati significativi con tratti straordinariamente positivi e non comuni, anche ad altre realtà, dati che segnano, nonostante le difficoltà, un cambio di passo sostanziale. In particolare, nel 2010 la distribuzione di assunzioni, cioè l'anno scorso, si è concentrata a Napoli, dove si registra un più 49%, seguita da Salerno più 23,7% e da Caserta più 15,5%. Chiudono a Velino con un 7,2% e Benevento con un più 3,9%. Ma non solo. Il 35,2% delle assunzioni riguarda giovani di età fra 18 e 29 anni. Tuttavia, il 75% del mercato di lavoro riguarda contratti a scadenza, mentre solo il 25% rapporti a tempo indeterminato, concentrati in settori come l'edilizia, il turismo e il lavoro domestico. Secondo i dati rilevati, il 12 giugno 2011, il 12 maggio, rispetto al focus effettuato nel mese di marzo, sono raddoppiate le aziende richiedenti, passate da 1114 a 1791. I lavoratori interessati sfiorano le 6.000 unità. I risultati della misura CIG più rivolta ad aziende che assumono lavoratori in cassa integrazione che registrano l'assunzione di circa 2.000 lavoratori distribuiti in 117 imprese. Si tratta di un dato particolarmente importante, ha detto Nappi, perché è la prima volta in Campania che si avvia il riassorbimento di lavoratori coinvolti nella crisi. E su questo versante ci giochiamo il futuro della Regione. Altro dato significativo riguarda i contratti di apprendistato. Secondo i numeri, nei primi mesi del 2011, cioè pochi giorni fa, sono stati stipulati il 40% di tutti i rapporti di apprendistato conclusi in Campania. Non bisogna dire questo 40% che il numero ha. Il dato sull'apprendistato proietta la Campania tra le regioni più attive nel quadro nazionale sul terreno dei contratti di lavoro in ingresso rivolto ai giovani. Misure quelle per il lavoro che Nappi ha sottolineato in sinergia con il Presidente Caldoro e intendiamo rafforzare nel corso dell'anno. Ho potuto leggere questa agenzia perché penso di farne un quadro e metterlo nella mia redazione. Scripta manent, dicevano i latini. Se le cose le metti per iscritto vuol dire che poi non te le puoi rimangiare. Io direi che a questo punto dare un messaggio distensivo alle migliaia di famiglie che pensano che l'emergenza principale sia quella del lavoro per i propri figli, insomma mi sembra che sia tutto a posto, c'è un'inversione di tendenza, raddoppio di qua, raddoppio di là, giovani, apprendistato, insomma uso la telecamera guardandola direttamente, insomma care famiglie state tranquilli perché qui c'è una giunta regionale che lavora e procura occupazione a tutta forza, non dovete preoccuparvi più di nulla, prima o poi qualcuno busserà la vostra porta e vi offrirà un posto di lavoro e forse continuando così si potrà credere anche al fatto che l'emergenza rifiuti è risolta a Napoli, siccome quelle le emergenze sono due, rifiuti e lavoro e dentro queste due emergenze, come diceva bene prima Armando, si inserisce la criminalità organizzata e siccome queste due emergenze sono tutte quante frutto delle mali amministrazioni della sinistra, come dice il Presidente Berlusconi, finalmente la sinistra fuori dai palazzi e tutto si è risolto, insomma possiamo dormire sonni tranquilli, vedrete che quando un giovane si diploma o si laurea poi immediatamente trova lavoro, la verità è un'altra purtroppo, quando si parla del 40% dei contratti di apprendistato si dimentica di dire il 40% dei contratti di apprendistato registrati nel 2003, 8 anni fa, perché se invece avessero preso a termine di paragone i contratti di apprendistato stipulati nel 2009, visto che nel 2009 non governavano loro, erano 4.800, mentre adesso ne sono stati registrati quasi 600 nei primi 5 mesi, quindi le proporzioni vanno fatte in questa maniera. quando si parla di SIL in cui il mercato del lavoro finalmente mette assieme il pubblico e il privato, si dimentica di dire che il pubblico gestisce una quota della collocazione, quindi dell'intermediazione, domanda, offerta di lavoro, pari al 10% e il 90% lo gestiscono i privati, con questo sistema i privati sopravvanzeranno anche in quel 10%, fasce deboli, soggetti della cassa integrazione che non avranno più proprio la necessità di andare ai centri per l'impiego, potranno essere anche chiusi, perché l'unica partita sarà giocata con le agenzie di collocamento e di intermediazione privata, le cosiddette agenzie interinali, anche i sindacati naturalmente hanno la loro parte. Quando si parla di ricollocazione al lavoro di 2.000 cassi integrati, si dice semplicemente che la cassa integrazione finisce per questi 2.000 operai che sarebbero rientrati in produzione e le imprese ne hanno approfittato per beccarsi il contributo di 5.000 Euro e rimetterli in produzione con un po' di soldi in tasca, in più non è così che si spinge l'occupazione, non è così che si fa la ricollocazione e poi se andiamo a vedere all'osservatore del mercato del lavoro il luogo dove questi dati dovrebbero essere depositati, ci risulta che invece i decreti non sono stati neanche firmati e quindi che non c'è nulla. Non raccontiamo che i miracoli si fanno semplicemente con la bacchetta magica, lo sappiamo che non si possono fare così. Insomma raccontiamo come prima ricordavamo che c'erano in Campania 20.000 famiglie che ricevevano 350 Euro al mese, si spendeva 70 milioni di Euro per sostenere il reddito delle famiglie, adesso non si spendono più quei 70 milioni di Euro ma non si spendono e basta, non è che si spendono per la cooperazione sociale, per pagare i servizi agli anziani, per pagare i servizi ai portatori di handicap e altri, no non si spendono e basta. Se prima i disoccupati napoletani ricevevano un assegno mensile di 596 Euro, quei soldi lì che ci andavamo a prendere a Roma adesso non arrivano proprio più a Napoli, non ci sono, non sono spesi e tutto è affidato, come la logica della destra più retriva prevede, al sistema di incrocio domande e offerta. È il mercato che fa da solo, mi dispiace che a fare l'assessore lavoro la Giunta Caldoro abbia chiamato l'ex responsabile dei DS per il lavoro che è appunto Nappi, perché lui prima era responsabile per la Secretaria dei Democratici di Sinistra delle politiche del lavoro, poi si è riciclato con l'Udea e adesso fa politiche di destra. Questo è un altro segnale che ci dice di come il PD perde le elezioni, perché se nel passato abbiamo premiato le persone che fanno le politiche di destra, è chiaro che poi la gente dice, ma come dice Totò, poi dice che uno si butta a destra, è chiaro, evidente. Allora, per dovere di cronaca devo leggere un'altra agenzia, questa che ho letta del 19 e del 18, questa che ho letta il giorno dopo, è come se le ansi si rispondono fra di loro, no? C'è un'ansa che dice che sono stati ben 2986 i suicidi avvenuti in Italia nel corso del 2009, quindi parliamo di un anno in cui governavate voi, con un aumento del 5-6% totalmente, va bene. L'incremento secondo un rapporto, i dati in Campania sono molto preoccupanti, perché parliamo di 365 suicidi nel 2009, praticamente uno al giorno, praticamente crisi fa crescere i suicidi, uno al giorno tra i disoccupati, quindi voglio dire, e questo è molto grave in Italia, siamo parlando, 365 si suicidano, c'è una crescita del 37,3% rispetto ai 200 casi del 2008, quindi sono aumentati i suicidi, ma poi la cosa strana è che un valore medio di un suicidio al giorno tra i disoccupati, cioè chi è disoccupato uno al giorno si suicida. Questo dato noi lo conserviamo perché andremo a vedere nel 2010, poi nel 2011 che cosa sarà, però getta un chiaro allarme sulla situazione. Ti permetto di interromperti Angelo, perché il tema davvero, altrimenti sembra che sia tutta una disquisizione politica, qui non è il tema di chi governa, chi fa l'assessore, chi governa eccetera, ma quali sono i risultati? Se c'è un'istituzione che getta una rete di politiche di sostegno o se c'è un'istituzione che lascia che il mercato faccia i suoi danni. In questo paese negli ultimi mille giorni si sono persi un milione di posti di lavoro, ogni giorno mille posti di lavoro in meno. Se c'è qualcuno che ci vuole venire a raccontare che invece facendo qualche manovrina, agganciandosi alla rete dei servizi del Friuli e della Sardegna, poi le cose cambiano, beh sì, fa parte dell'aspetto comunicativo, ma poi concretamente quanti sono i milioni di euro messi a disposizione del mercato del lavoro? 600 milioni? Benissimo, ottima iniziativa, 600 milioni di euro quanti posti di lavoro nuovi hanno prodotti? Perché quelle aziende che hanno aderito al Campania al lavoro sono aziende che avevano già lavoratori in nero e semplicemente hanno preso i soldi per portarli fuori dal nero per 12 mesi, quando finirà il contributo regionale e li rimetteranno di nuovo in strada? Ci sarebbe bisogno di una task force che andasse a verificare ogni contratto, che tipo di lavoro c'è, quanto dura, che cosa succede, perché poi non possiamo mica essere quelli che fanno come giornalisticamente, giusticamente facevi tu, l'analisi di che cosa produce il non lavoro dal punto di vista delle disgrazie, noi dovremmo essere la politica attenta per il ruolo di maggioranza e per il ruolo di opposizione che verifica ogni euro speso che cosa produce e in tasca chi finisce, questo è il punto, in tasca a chi finiscono questi 600 milioni di euro? Bene, su questo interrogativo chiudiamo questa puntata di Obbligo Informativo ringraziando Armando Simeone, neoconsigliere eletto, in bocca al lupo ci sentiremo e ci troveremo sicuramente perché so che noi diamo spazio alla nostra Marica De Angelis, c'è un programma che spesso ti ha visto anche protagonista, segnalaci sempre tutto quello che non va, noi provvederemo a rendere pubblico ma soprattutto a cercare anche una soluzione che è quello che ci interessa. Grazie anche al consigliere Corrado Gabriele del Partito Democratico, grazie a tutti i nostri tecnici, a voi che ci avete seguiti, stiamo pensando di fare nel mese di giugno e luglio una puntata settimanale di questo Obbligo Informativo che diventa sempre di più un punto di riferimento per quelli che cercano un lavoro ma soprattutto anche per quelli che vogliono notizie su quanto accade in questo settore. Grazie a tutti voi e buonasera. Grazie a tutti. 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 Grazie.